Per fronteggiare il surriscaldamento globale, l'amministrazione regionale si impegna a gestire le risorse idriche nel modo migliore. Per la diga di Chiauci arrivano risorse economiche dal fondo di sviluppo e coesione. Il servizio. Collaudo tecnico superato alla diga artificiale di Chiauci, che raccoglie in alto Molise le acque del fiume Trigno. Grazie a questo ulteriore passo avanti agli inizi di marzo del prossimo anno, il Consorzio di Bonifica di Vasto con l'utilizzo dei fondi per lo sviluppo e la coesione potrà proseguire ad immettere acqua nell'invaso fino a circa 9 milioni di metri cubi d'acqua. Con questa capacità saranno garantite alle campagne sul versante adriatico i fabbisogni idrici per gli usi agricoli, ma anche le richieste per gli stabilimenti industriali e potabili per la cittadinanza e i turisti, soprattutto nel periodo delle vacanze estive. Sempre restando sul litorale adriatico è arrivato a destinazione il finanziamento di 750 mila euro per azioni finalizzate a migliorare l'efficienza della rete idrica e fognaria di molti centri della regione. L'erogazione di questi fondi diventa fondamentale per colmare i disagi economici di aziende e comuni, beneficiari dei fondi diverse realtà delle due province molisane. Con il pericoloso innalzamento dei valori climatici sul pianeta diventano a questo punto essenziali anche in Molise le opere a tutela delle reti idriche e del sistema fognario.